Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti oggi sono super super contenta e con la mia franguetuzza perché ho comprato di nuovo un po' di bustine sorpresa aspettate che ve le faccio vedere tutte ho preso un po' di bustine sorpresa per quanto riguarda le bamboline in 3D, le principesse in 3D del brand Sbabam quindi sapete che ho preso queste bustine, ne dicono, ne abbiamo già aperte 6 di bustine, trovando soldamente un doppione io le ho tutte qui quelle che ho trovato e ora ovviamente non ci resta, scusate non ci resta che vedere che cosa troviamo all'interno di queste altre buste sorpresa quindi se siete curiose come me e soprattutto di vedere se la A le riceverà gioia o meno mi raccomando vi consiglio di seguirmi dopo la sigla ok ragazzi allora eccomi finalmente tornata con un nuovo video unboxing buste sorpresa dell'edicola sono ritornate in edicola perché ovviamente avevo trovato poche principesse e soprattutto volevo trovarne delle altre sapete che avevo già trovato delle principesse in alcune buste sorpresa che abbiamo aperto tranne una principessa che l'ho trovata uguale quindi gliel'ho data mia sorella adesso vediamo se di 7 buste sorpresa che ho preso che cosa troveremo di doppio? spero niente o meglio spero almeno di trovare qualcosa che voglio e che mi manca soprattutto queste bustine le ho pagate 4,99 euro l'una e dovremmo trovare 2, 4, 6, 8, 10, 12 ci sono 12 personaggi quindi abbiamo 12 principesse da poter trovare ma prima di iniziare il video mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete anche riscritti e attivate anche la campanellina così sarete sempre avvisati dei nuovi video in uscita e soprattutto seguitemi sui social in particolar modo su instagram mi trovate come il sottopotto 88 ve lo lascio scritto qua l'ultima volta quando ho aperto le bustine sorpresa abbiamo trovato biancaneve, aurora doppia, abbiamo trovato cenerentola belle che è sicuramente la mia principessa preferita e abbiamo trovato rapunzel adesso mi piacerebbe trovare ariel mi piacerebbe trovare mulan jasmine, vabbè speriamo di trovarle tutte ma almeno che siano differenti ecco diciamola così nel caso fossero doppioni ovviamente gliele darò a mia sorella visto che ormai è iniziato una collezione che le ho imposto io perché abbiamo trovato ovviamente aurora uguale allora, prima bustina apriamo e speriamo che le gioie siano con noi no io non ci credo, non voglio crederci chi ha questa? wow che bella allora abbiamo trovato Tiana eccola qua, è bellissima ma almeno abbiamo trovato qualcosa di diverso troviamo all'interno anche la brusciurina della principessa bellissima quindi bene abbiamo trovato una principessa che non avevo contenta, contentissima andiamo avanti andiamo avanti gioie o non gioie decivete voi vediamo la apro io tasto a vedere se le riconosco allora questa secondo me ha i capelli ricci quindi potrebbe essere Merida ovaiana ovaiana Merida ovaiana perché hanno i capelli sciolti e ricci troviamo Merida eccola qua molto carina super super carina bella esattamente lei eccola qua Merida mi piace e non mi piace questa principessa vi dirò però però dai almeno non abbiamo trovato dei doppioni molto bene andiamo avanti dai stiamo trovando delle gioie uh eccole le vedo sempre più avanti allora bustina ecco questo è un doppione sicuro andate un po' più in là va gioie che è meglio non ha aperto niente ok siete pronte? io no questo è sicuramente un altro doppione un doppione sì un doppione no scusate non è un doppione troviamo vaiana eccola oh che carino finalmente ok ragazzi tre principesse che non avevo cioè tre principesse che non avevo raga cioè ma sono contentissima ma raga Mulan io voglio Mulan e almeno Mulan Jasmine vabbè mi manca Pocahontas mi manca Ariel mi manca allora aspettate mi manca Ariel Mulan Jasmine e Pocahontas me ne mancano quattro la Ale riuscirà a trovarne in queste allora ne ho giuste quattro mi arrabbio se trovo dei doppioni le gioie sono sempre più ravvicinate le vedo sono lì che mi guardano questo è sicuramente un doppione andiamo andiamo avanti ecco questo è un doppione mi sa cenerentola vabbè cenerentola gliela do a mia sorella vabbè niente lei ha cenerentola e aurora quindi queste sono le principesse che devo questa devo darla per forza perché io ce l'ho altra bustina andate un po' più in là da giocare su anche questa ce l'ho già potrebbe essere jasmine potrebbe essere dai speriamo no non è jasmine è jasmine è jasmine abbiamo trovato anche jasmine ok molto bene allora raga siamo a meno quante meno una due tre dai meno tre però sicuramente ho due bustine quindi o ci sono dei doppioni o troviamo le altre due che mi mancano e poi me ne mancherebbe solo una altra bustina la penultima perché poi ne ho un'altra facevo prima comprarmi due scatole tutte intere allora questa ha un muccetto Mulana ha i capelli giù quindi non è lei Ariel non è chi è? niente è belle che ovviamente ce l'ho quindi questa va mia sorella uffa ma uffa non è che posso cioè io voglio quelle due adesso me ne mancano due come faccio? cioè me ne mancano due come faccio? questa chi è? sicuramente un'altra che ho forse questa potrebbe essere chi? potrebbe essere qualcuna con i capelli al vento potrebbe essere Ariel questa potrebbe essere Ariel se non vediamo potrebbe essere no un'altra Aurora un'altra Aurora e tra l'altro questa qua abbiamo un altro doppione perché questa qua l'abbiamo trovata già due volte eccola qua niente questa qua magari finisce su Vinted se c'è qualcuna che fa la collezione di queste principesse la metto magari in vendita su Vinted ok? così avete quella punto e stop sono triste sono triste perché adesso me ne mancano due e sarà difficilissimo tra l'altro tre me ne mancano me ne mancano tre mi manca Pocahontas mi manca Mulan e Ariel ho trovato Merida che a me non mi piace quella principessa lì vabbè niente ragazze le gioie subito sì poi basta e vabbè pazienza le ultime tre sono andate cioè su sette tre vabbè tre doppioni pazienza ci sta ovviamente niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia fatemi sapere se volete che io metta se fate la collezione se volete che io metta in vendita su Vinted appunto Aurora così almeno se fate la collezione chi non ce la può acquistarla tranquillamente noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando continuate a seguirmi perché facciamo degli altri spacchettamenti edicola che che trovo sempre bustine sorpresa nuove mi raccomando sempre sintonizzatevi vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima ciao ciao